Gentili telespettatori, buona giornata. La Presidente del Consiglio Meloni avrà il primo faccia a faccia con Schlein, la capa del Partito Democratico. Beh, è un primo faccia a faccia, non televisivo, non è a porta a porta, non è da nessuna parte, ma la Meloni deve chiedere alla Schlein delle cose ben precise. Deve chiedere se vuole fare il presidenzialismo con lei. Cioè, facciamo tutti insieme un bel presidenzialismo. Credo che la risposta della Schlein, credo, sarà no. No perché non si può dare i poteri a una sola persona, al comando, va bene così com'è il sistema. Ma diciamo che la risposta è quasi telefonata, ma non credo che la Meloni davvero confidi in una risposta affermativa della Schlein a fare il presidenzialismo col centrodestra. Però alla Meloni serve invitare la Schlein perché invita tutti quelli dell'opposizione, Calenda, Renzi, quindi lei punta molto su Calenda e su Renzi. Perché? Perché il presidenzialismo è una riforma della Costituzione e le riforme della Costituzione hanno bisogno di una maggioranza più ampia di quella che ha oggi il governo e pertanto dovrà avere dei voti al di fuori della maggioranza. Dovrà, se ci riuscirà, perché il presidenzialismo dipende se avrà un aiuto da qualcuno fuori dalla maggioranza. Senza quell'aiuto probabilmente il presidenzialismo e altre riforme costituzionali non si potranno fare perché la maggioranza c'è, ma non è una maggioranza schiacciante per poter fare da soli le riforme. Prima delle elezioni politiche di fine anno scorso quella che sarebbe stata poi la futura opposizione aveva paura che un centrodestra con dei numeri alti avrebbe poi potuto fare quello che le passava per la testa compreso il presidenzialismo. Ma no, non c'è stata una maggioranza schiacciante e pertanto per fare il presidenzialismo o il semipresidenzialismo o il premierato ci vogliono dei voti fuori dalla maggioranza. E così Giorgia Meloni convoca tutti i partiti di opposizione perché ogni parlamentare è utile ogni parlamentare serve quindi la Meloni assieme a Salvini, Tajani, La Casellati Luca Ciriani, i rapporti per il Parlamento i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Mantovani e Fazzolari ecco, ci sarà presente il costituzionalista Francesco Saverio Marini perché potrebbe sul momento la Meloni quando dice ma allora voi cosa ne pensate è incostituzionale potrebbe dire la Schlein o gli altri e lì c'è presente un costituzionalista che può dire no, guarda, realmente si può fare quindi c'è la presenza di un costituzionalista per stemperare quella che potrebbe essere la risposta è incostituzionale presenta tratti di incostituzionalità è un incontro che Meloni aveva già preannunciato durante la sua visita a Londra la scorsa settimana dice ho in testa un calendario di riforme chiaro e abbastanza serrato e credo che sia un lavoro su cui vanno coinvolti tutti quanti e mi prendo io la responsabilità di farlo sto già organizzando è certo che deve convocare deve coinvolgere tutti quanti perché sennò i numeri non ci sono non è che lo fa perché è altruista e perché vuole coinvolgere tutti li deve coinvolgere perché sennò le riforme non si possono fare nel programma del CDX del centro-destra figura l'elezione diretta del Presidente della Repubblica l'autonomia l'attuazione del federalismo fiscale non compare in nessuno dei programmi il superamento del bicameralismo paritario una bandiera per il terzo polo in particolare per Italia Viva allora 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 avete capito? la Meloni non è che deve convincere Renzi o Calenda Meloni deve dare a Calenda e a Renzi una controparte nel senso in politica non si fa niente per niente nulla per nulla quindi la Meloni dice mi aiutate Renzi e Calenda a fare le riforme costituzionali io in cambio vi do il superamento magari del bicameralismo paritario cioè azione Italia Viva per appoggiare il governo dovranno avere una contropartita dovranno avere in cambio qualcosa anche di molto importante perché per il governo queste riforme sono importanti quindi dovrà dare a Renzi e a Calenda un qualcosa che per loro è importante così il terzo polo potrebbe offrire una sponda alla maggioranza sul premierato secondo la formula del famoso sindaco d'Italia che voleva a Renzi quindi la Meloni dirà Matteo dai facciamo il sindaco d'Italia quello che hai sempre voluto fare guarda quando lo facciamo e voi mi appoggiate io dirò che questo era quello che diceva anche Renzi in modo che ti do credito il PD è sempre stato contrario all'ipotesi di elezione diretta del capo dello Stato sia del Presidente che del Consiglio e così anche il Movimento 5 Stelle pertanto il punto è proprio quello invita tutti ma l'importante è convincere Renzi e Calenda e questo lo sapremo martedì perché se Calenda e Renzi dovessero dire no qualsiasi cosa tu ci volessi dare ci vorrai dare no e diventa diventa un bel problemuccio o meglio diventa infatti tutte quelle riforme lì diventano infattibili quindi la Meloni dovrà essere estremamente convincente dovrà avere delle carte in mano per convincere i due ecco non si convincono così a parole ci vogliono fatti è un po' come il blocco navale tu chiami il generale che viene qui a Ftar a Roma ma non lo convinci così lo convinci coi soldi quindi e questo la Meloni lo sa perfettamente volete che non lo sappia è 30 anni che in politica o di più queste cose le sa benissimo che per convincere qualcuno devi offrire qualcosa in cambio grazie a tutti e buon proseguimento di giornata